Troppo buoni gli spiedini di zucchine e salmone? Prepariamoli insieme! Sono facilissimi! Affetta le zucchine a fette sottilissime, taglia il salmone a cubetti e condisci il pangrattato. Al termine adagia su ogni fetta di zucchina un cubetto di salmone e un po' di pangrattato condito. Arrotola la forma degli involtini e man mano infilzali su degli stecchi di legno. Continua in questo modo fino a terminare tutti gli ingredienti, poi passali nel pangrattato condito, adagiali su una teglia, cospargi con sale, bagna con un filo d'olio e cuoci subito in forno caldo. Ed eccoli qui! Buonissimi! Ciao!